Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Intanto oggi abbiamo una piccola buona notizia, in realtà arriva da ieri, però la commentiamo oggi perché ieri avevamo parlato di tutti quelli che potevano essere gli indisponibili, gli infortunati e di tutti questi problemi fisici che stanno continuando a tartassare la Juventus. Beh, McKennie ha soltanto un affaticamento muscolare, non è una lesione, è la migliore notizia che potevamo sentire ieri in assoluto, proprio perché una lesione sarebbe stato un bel problema, l'affaticamento invece è una cosa tranquillamente gestibile e che molto probabilmente terrà McKennie lontano dai campi di gioco soltanto in occasione della partita con la Lazio, poi si potrà valutare anche la Champions League, ma un affaticamento potrebbe essere facilmente riassorbibile per il centrocampista americano nel giro di pochi giorni. E questa è un'ottima notizia. Ieri vi dicevo che sono stato ospite dei ragazzi di Life Bianconera e abbiamo trattato tanti punti, abbiamo fatto veramente un'analisi a 360 gradi su quella che è la situazione attuale della Juventus. E allora c'era un misto tra un po' di ottimismo e un po' di pessimismo, perché? Perché ovviamente la Juventus, avendo lasciato indietro qualche punto nel mese di settembre e ora si prepara un mese di ottobre molto tosto, si inizia a pensare, eh, vedi quei punti lì, persi, poi non tornano. E allora a un certo punto ho dovuto fare una domanda, e cioè, per cosa stiamo giocando? Cioè la Juventus, per cosa sta andando in campo ogni domenica? Qual è l'obiettivo della Juventus? Santiago Motta ci ha spiegato, chiaro e tondo, che per lui l'obiettivo è vincere sempre la partita dopo. Ogni partita c'è la volontà di portare a casa il risultato migliore possibile. Questo non può essere ovviamente l'obiettivo a lungo termine della Juve. Quindi quando parliamo della stagione della Juve, noi per forza di cose abbiamo tutti un obiettivo differente. C'è chi dice, siamo appena partiti, mi accontenterei di vedere la squadra qualificata in Champions, ma che ha preso le nozioni basilari per poi migliorare la squadra l'anno prossimo e provare a vincere. C'è chi dice, no, stai alla Juventus, bisogna vincere, punto e stop. Io vi dico sinceramente che il mio obiettivo sarebbe quello di lottare fino all'ultima giornata per il campionato. Poiché si vinca o non si vinca dipende da un milione di fattori. Questa era la mia richiesta pure lo scorso anno. Io non posso pretendere che la Juventus vinca, a maggior ragione, quando inizi dei nuovi progetti, dei nuovi progetti sportivi, dei nuovi progetti tecnici. Difficilmente puoi pretendere che si vinca first shot. L'altro giorno facevo l'esempio dei nove scudetti consecutivi. Dicevo, non è che se ne ho vinti otto di fila e poi vado a vincere il nono l'anno dopo, naturalmente pretendo di vincere il decimo, poi posso dire allora ogni anno devo vincere perché ne ho vinti nove di fila prima. E questo è il punto. Quindi io mi accontenterei questo primo anno di rimanere competitivo fino all'ultima giornata, di rimanere lì nel groppone di testa di quelle che si vanno a giocare lo scudetto di due, tre squadre, non so quante saranno. Io immagino al massimo tre squadre che potranno arrivare in fondo al campionato con ancora i conti aperti, però quella è, secondo me, la lettura migliore per quanto riguarda la Juve perché rimanere in lotta fino all'ultimo intanto ti dà grande consapevolezza. Un po' come è stata la stagione in cui il Milan avento il campionato all'ultima giornata contro il Sassuolo con l'Inter che invece è rimasta indietro a un punto. Il primo scudetto di Pioli, il primo anno di Enzaghi, quella stagione lì. E allora, se la leggiamo da questo punto di vista, la Juventus in questo istante è esattamente dentro quello che è l'obiettivo stagionale, è in linea, perché anche avendo perso quattro punti con il Cagliari e con l'Empoli, la Juventus è lì, è tra quelle in testa, è vicina alla capolista, ha la possibilità di fare punti, ha la possibilità di arrivare vicino. E allora, ieri ho aperto questo argomento di discussione che oggi andiamo a implementare all'interno dei video su YouTube e cioè noi giustamente ci stiamo guardando il nostro calendario di ottobre perché è un calendario tosto, è un calendario difficile, abbiamo due partite di Champions, abbiamo l'Inter, abbiamo l'Alazio, abbiamo il Derby e poi ci sono due partite sulla carta un po' più facili ma abbiamo visto che anche Cagliari e Empoli che dovevano essere facili poi non lo sono state. Però noi naturalmente, giustamente ragioniamo su di noi, sulla Juventus, perché la amiamo, perché siamo preoccupati, eccetera, eccetera. Ma non facciamo i conti con gli avversari perché per gli avversari invece diciamo ah vabbè la Juve c'è queste, l'Inter e il Napoli in questo mese per la Juve voleranno via e mamma mia l'Inter e il Napoli se se ne andranno in questo mese. Allora andiamo a leggerci un attimo i calendari anche di Inter e Napoli perché l'Inter domenica giocherà in casa, anzi in trasferta contro Roma, noi con l'Alazio quindi abbiamo uno scontro tra Juve e Inter contro le Romane. Poi anche loro hanno la Champions, hanno gli Young Boys in trasferta. Poi vengono, anzi noi andiamo a Milano a giocare il Derby d'Italia, quindi Inter-Juventus. Dopodiché c'è l'Empoli, l'Empoli che ha già vinto con Roma, ha già fermato la Juve, chissà che non possa farci restituirci un po' il favore, anche perché l'Empoli negli ultimi anni tra l'1-0 ha la prima in casa del ritorno di Allegri, tra il 4-1 dopo la penalizzazione, tra lo 0-0 l'altra sera è una squadra che continua particolarmente a essere indigesta per la Juve, quindi siamo a credito nei confronti dell'Empoli. Poi l'Inter ospita in casa il Venezia, una partita in teoria sulla carta molto facile per l'Inter. L'Inter che ospita in casa l'Arsenal nel quarto turno di Champions League e poi questo miniciclo prima della prossima pausa nazionale si conclude con un Inter-Napoli che per forza di cose la Juventus dovrà sfruttare perché se pareggiano si tolgono un punto virtuale, perché vincendo ne fanno tre pareggiando una testa, quindi un punto viene annullato nei confronti di queste squadre. E se una delle due vince, allora sì, questa può allungare, però l'altra allora deve subire anche il risultato della Juve. In quella giornata la Juve giocherà invece il derby con il Torino. Il Napoli, che secondo me ha avuto fino adesso un calendario abbastanza agevole, non potrà continuare ad avere un calendario sempre morbido. E quindi inizierà un po' in tranquillità questa ripresa post-pause nazionali, ma poi andrà verso un calendario molto tosto e complicato, perché è vero che il Napoli gioca soltanto il campionato, non ha impegni infrasettimanali, indubbiamente questo è un vantaggio, lo era quando non aveva le coppe noi, è sempre un vantaggio avere un impegno in meno in settimana, non prendiamoci in giro, però il Napoli poi dovrà anche, non dire solo sulla carta ce l'ho, anche andare in campo e conquistare quei punti. Quindi va Empoli, stesso discorso che abbiamo fatto prima per l'Inter, l'Empoli è un po' il destino, la Serie A in mano, il destino di questa Serie A, avrebbe affrontato Juve, Napoli e Inter già nelle primissime battute di questo campionato e speriamo che possano anche una tra Inter e Napoli lasciare qualche punto indietro con l'Empoli. Il Napoli poi ospiterà il Lecce e poi inizia questa sorta di salita perché va a San Siro contro il Milan, ospita l'Atalanta in casa e va a San Siro contro l'Inter. Quindi dal 29 di ottobre al 10 di novembre il Napoli ha tre big match consecutivi e alla ripresa della sosta il Napoli c'ha la Roma, poi c'ha il Torino, poi ha la Coppa Italia con la Lazio, poi la Lazio in campionato, quindi inizia ad essere un calendario abbastanza tosto per il Napoli. Non leggiamola sempre solo che la Juve, cavolo, lascerà indietro i punti, cerchiamo di guardare anche il lato positivo, anche perché c'è una cosa che non abbiamo ancora preso in considerazione e cioè il fatto che oggettivamente la Juve che il 27 di ottobre va a San Siro e gioca contro l'Inter, la partita la può vincere. Cioè l'Inter quest'anno non è partita bene, lo sappiamo, abbiamo visto, ci sono state delle situazioni, dei risultati, anche tanti gol subiti che invece l'anno scorso l'Inter aveva completamente annullato questo problema difensivo e invece sta tornando fuori. Poi se l'Inter, che avrà anche necessità di recuperare un pochettino lo spazio in Champions League, perché una l'ha pareggiata, certo l'ha pareggiata col Manchester City, però se vuole entrare nelle prime otto e quest'anno credo che per l'Inter sia uno dei principali obiettivi passare questo primo turno di Champions, beh dovrà comunque vincere anche contro Young Boys, che sì, non stiamo parlando di chissà quale impresa, però è soltanto quattro giorni prima il derby d'Italia. C'è la Roma comunque da preparare adesso. Significa che l'Inter può comunque lasciare anche lei dei punti per strada, non solo la Juve con la Lazio, con una Juve in emergenza, in cerottata, che deve farla conto per capire chi è disponibile, chi può camminare e chi no, perché McKennie che sì sta bene, però salta comunque la Lazio e sicuramente con con se è stato squalificato, con Meners, non è una bella notizia. Però pensiamo anche allo scenario in cui la Juve va a San Siro e vince con l'Inter, perché noi non siamo più abituati a queste cose qui? Noi ormai ci siamo un po' disabituati al fatto che i big match, i scontri redetti si possono vincere. E allora cerchiamo di tirar fuori anche un po' di orgoglio, perché che può succedere? Può assolutamente succedere. Poi io vi ho fatto il video questa settimana in cui vi dico, secondo me faremo 10 punti in questo blocco di Serie A, che ci porta alla prossima pausa nazionale e ne faremo 4 in Champions. Secondo me quello sarebbe un ottimo risultato, ma non significa che quel risultato lì è il minimo, significa che si può pure migliorare. Quindi quello che voglio dirvi con questo video è cerchiamo anche di guardare il lato positivo della cosa, perché qua ci siamo già buttati giù. Cioè qua, boom, pareggiato col Cagliari è finita. No, è ovvio che la delusione deve esserci. Io stesso sono stato delusissimo dal pareggio col Cagliari, però finisce lì. Cioè si limita quella determinata, singola e specifica partita. Non è che è una cosa che mi porto dietro, si allunga, va data tutta la stagione, ecco adesso non vinciamo più neanche una partita perché abbiamo pareggiato col Cagliari. Non è così. Anzi, ci sono degli scenari in cui la Juve può allungare ancora di più sulle avversarie sfruttando dei scontri diretti, cosa che fino adesso non ha fatto, perché con la Roma e con il Napoli ha pareggiato, 0-0, tutte e due le volte. Ma si possono anche vincere, perché noi dobbiamo anche ricordarci che l'obiettivo della Juventus, e Tiago Motta lo dice sempre, è quello di migliorare partita dopo partita per cercare di riuscire a portare a casa i risultati. Quindi questa è un po' l'analisi che volevo portarvi oggi, la riflessione che volevo condividere con voi e aspetto le vostre considerazioni qui sotto nei commenti perché sono molto, molto, molto curioso di vedere quanto ottimismo c'è e quanto pessimismo c'è. Voglio cercare di pesare un po' le due fazioni. Scrivetemi nei commenti. Ciao ragazzi.